Cari amici, torno a parlare del contestato decreto sulla fase 2 del Governo. Ho ricevuto tantissime segnalazioni in questi giorni. Il prossimo 4 maggio, infatti, gli agriturismi continueranno a rimanere chiusi. Parliamo di un settore che già sta pagando un prezzo molto alto da questa crisi. Non si può pensare di tenerli bloccati per un altro mese. Al Governo chiedo la riapertura immediata degli agriturismi, i quali devono rispettare tutte le norme di sicurezza previste. Bisogna creare le condizioni per una ripartenza. Senza lavoro non ci può essere futuro.